Si svolta ieri a Catanzaro l'assemblea dei circoli degli amministratori del PD per chiedere al segretario Nicola Zingaretti che si svolgano le primarie. Teatro comunale gremito in ogni ordine di posti, tanto che molti di coloro che avrebbero voluto entrare sono rimasti fuori. Applausi e grida d'incitamento per il presidente della regione Mario Oliverio al suo ingresso in sala. Molte le bandiere del PD sono stati centinaia militanti, tra cui molti giovani che hanno risposto alla chiamata degli organizzatori. Oltre 150 circoli presenti e più di 100 sindaci. Tra i partecipanti anche la deputata Enza Bruno Bossio. Al commissario del PD della Calabria, Graziano, ha detto il sindaco di Torremelissa, Giuseppe Dell'Aquila, chiediamo come mai non è qui. Perché qui c'è il PD. Non siamo qui per fare un favore a qualcuno. Mario Oliverio non ha bisogno di nulla, ma è diventato simbolo a difesa del nostro territorio e non vogliamo che le decisioni che ci riguardano vengono assunte fuori. Poi è stato approvato per acclamazione un documento con il quale si sollecita il segretario del partito, Nicola Zingaretti, protagonismo e partecipazione dei democratici calabresi, alle scelte relative al futuro della Calabria, a partire dalla predisposizione del programma, della definizione delle alleanze, della scelta del candidato a presidente della Regione e della selezione delle candidature per il Consiglio regionale. L'Assemblea ha dato inoltre mandato a una delegazione di chiedere un incontro alla Segreteria Nazionale del PD per illustrare il documento corredato da oltre 5.000 firme raccolte tra gli iscritti al partito. Nel testo si sottolinea ancora che l'Assemblea respinge con fermezza le azioni messe in campo dal Commissario regionale del PD, il quale, violando le regole statutarie, cerca di impedire ai circoli, agli organismi intermedi, di discutere e contribuire alle eminenti scelte relative alla prossima scadenza elettorale e politica. Per i firmatari del documento, l'esperienza in atto del Governo regionale richiede invece una valutazione attenta e rigorosa. I fatti e i comportamenti messi in campo in questi anni nel corso del lavoro dell'Aggiunta regionale guidata dal Presidente Mario Oliverio costituiscono uno dei motivi fondanti per la costruzione di un nuovo programma e di rinnovati obiettivi per un secondo mandato alla guida della Regione Calabria con una coalizione di centrosinistra e forze civiche. Non è pensabile che il processo di costituzione dell'Alleanza del PD in Calabria, compreso il confronto con il Movimento 5 Stelle, peraltro snegnosamente respinto dai dirigenti calabresi, si possa svolgere senza un'ampia discussione. Tanti nel corso dell'iniziativa gli interventi e le testimonianze dei segretari di circolo e sindaci di tutta la Calabria, che hanno invocato dalla parte della Segreteria nazionale lealtà e rispetto.